amici ma soprattutto amici del canale buongiorno ragazzi buongiorno ragazzi qui ci sta sfuggendo qualcosa di mano perché io ancora non l'ho sentito parliamo parliamo mercato chiesa vlavic lukaku tizio caio sembronio che si non che si tutto quello che volete il link junior bla 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 352 433 343 tutto quello che volete tutto ma nessuno nessuno ancora ha detto che quest'anno al 100 per cento deve essere scudetto non l'ho sentito dire ancora nessuno quest'anno deve essere scudetto al 100 per cento perché una società come la juventus con un allenatore pagato pagato milioni e milioni milioni e milioni non può permettersi per il terzo anno consecutivo di non vincere un cazzo quindi quest'anno non ci sono cazzi qualcuno lo dica qualcuno lo dica qualcuno lo dica si prenda la responsabilità di dirlo perché quest'anno deve essere scudetto non c'è neanche la champions non c'è neanche la coppa si punta direttamente al campionato una partita a settimana c'è tutto il tempo di recuperare c'è tutto il tempo per la virgoletta di allenarsi si punta subito allo scudetto non ci sono cazzi non ci sono cazzi perché bisogna dirlo questo non bisogna nascondersi dietro il dito non bisogna fare lo ignorri qui invece qualcuno lo sta omettendo questo discorso tre anni senza vincere niente non è possibile non è possibile la squadra era forte anche lo scorso anno quest'anno è forte anche e forte anche non mi interessa un cazzo allegri non allegri non mi interessa l'hanno voluto l'hanno tenuto gli stanno facendo il mercato gli stanno facendo tutto quello che dice lui quest'anno deve essere scudetto lo dovete dire alle creati giornalisti giornalisti pagati quest'anno lo dovete dire non esiste al mondo quest'anno deve essere scudetto è così troppo comodo è troppo comodo no 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 e non ci sono scusi che venga lukaku che non venga lukaku perché non è che poi se non viene lukaku qualcuno deve dire eh no non gli hanno preso lukaku e plavus no 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 la rosa è forte la rosa è forte questo giunto le ha detto questo giunto le ha detto attenzione e questo giunto le ha detto valutiamo anche queste parole questo giunto le ha detto la rosa è forte qui bisogna vincere lo scudetto perché tre anni senza vincere nulla non esiste al mondo perché veramente qualcuno si deve andare a cercare una grotta un buco un tombino e si ci deve andare a buttare appunto e deve andare a convivere con i topi su questo non si discute quest'anno deve essere scudetto e mi sono rotto il calzo ora ma si ci ingazzate fino alla fine allegri auto